internet è una delle cose che tutti conosciamo e un pochino tutti diamo per scontato ed è leggevo in questi giorni c'è un giornalista del Corriere della Sera Beppe Severgnini che ha fatto un esperimento una settimana senza internet e io tra me e me pensavo come potrei mai fare una settimana a gestire tutto il mio flusso di informazioni e tutte le informazioni che leggo abitualmente informazioni che mi porto dietro tutto il giorno in qualsiasi momento e che vengono in giro insieme a me che per me sono sempre accessibili e sono informazioni mobili perché io sono in movimento ma dall'altra parte internet non è nient'altro che una grande autostrada dove continuano a circolare informazioni in continuazione se anche io sto ferma e apro una qualsiasi fonte di informazione come se fosse twitter ho un flusso continuo di informazioni nel quale devo imparare in qualche maniera di stricarmi a cercare di trovare un bandolo della matassa per leggere le informazioni in maniera più corretta quindi le informazioni in questo nostro mondo sono veramente tantissime e circolano moltissimo e spesso si muovono più in fretta di noi anche se a volte si muovono semplicemente in cerchi concentrici o per percorsi strani che continuano a tornare e a ripingarci in qualche modo il web e comunque la tecnologia ci offrono moltissimi strumenti per parlare con le altre persone per incontrarci senza avere bisogno più di muoverci diverse aziende che conosco e che ho frequentato hanno a un certo punto deciso di tagliare tutti i costi di spostamento delle persone comprando degli strumenti di videoconferenza per poter lavorare insieme senza doversi spostare ciascuno dal proprio ufficio però credo che la mobilità delle persone fatto di comunque farle incontrare continui ad avere un molto valore cambia completamente il modo di lavorare quando ci si incontra di persona dall'altra parte non sono solo le persone che si muovono ma un pochino si muovono anche io li chiamo i loro oggetti sono le loro estensioni tecnologiche questo sicuramente che ci siamo tutti quanti ci siamo portati dietro una delle prime domande che che ci siamo fatti è ok d'accordo in francia arrivo e dove posso comprare una scheda telefonica per iniziare a navigare in rete come faccio a rimanere sconnesso per più di cinque minuti